Il cristiano è un uomo di memoria ma deve anche essere capace di guardare al futuro con speranza e coraggio. È la riflessione che Papa Francesco ha messo al centro dell'Omelia della Messa celebrata nella cappella della Casa Santa Marta, passato, futuro e presente. Per vivere bene una vita cristiana infatti occorre partire dalla memoria, dalla riconoscere cosa il Signore ha fatto nella vita di ciascuno. Tutti i passi orientati verso l'incontro con il Signore, è un appuntamento che nessuno sa quando avverrà ma che deve essere vissuto nella consapevolezza del presente. L'oggi, ha ricordato il Pontefice, deve essere vissuto con coraggio e pazienza senza cedere alla pusillanimità che ci blocca e non ci fa crescere. Non rischiare per favore la prudenza, i comandamenti tutti, sì davvero ma questo ti paralizza, anche ti fa dimenticare tante grasse ricevute, ti toglie la memoria, ti toglie la speranza perché non ti lascia andare. È il presente di un cristiano, di una cristiana così. È come quando uno va per la strada e viene una pioggia inaspettata, il vestito non è tanto buono e si restringe la stoffa, è anima ristretta. Questa è la pusillanimità. Questo è il peccato contro la memoria, il coraggio, la pazienza e la speranza. Che il Signore ci faccia crescere in memoria, ci faccia crescere nella speranza. Ci dia ogni giorno coraggio e pazienza. E ci liberi di quella cosa che è la pusillanimità, avere paura di tutto. Anime ristrette per conservarsi e Gesù dice che chi vuole conservare la propria vita la perde.